bello bello si fa male hai preso la testa bravo richi che impara ad andare indietro vai vai hai un po' mal di testa la pulata copresti eh no non ho ancora imparato sto andando a vedere viva amore la 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 bamba ecco ora vedete i famosi animali del ghiaccio dei ghiacci scudate questo è il suo rituale d'amore che cerca di attirare la femmina verso di lui dando spettacolo ogni tanto carica la videocamera ma non è pericoloso non preoccupate non mi dai muovere stardo io cado va bene va bene grazie ragazzi che applausi un verso un verso di tuo tipo quando richiami la femmina quando sei in amore vabbè non fateci caso vabbè ora vedete come mostra le sue ghiandole anali è un approccio è un approccio tra i due animali di ghiaccio vedete come mostra le sue natiche non è un bel esemplare però oh dio se evitassi di girare in tondo che mi sta girando la testa mi farebbe un favore basta girare anche a me la testa è un approccio